Ciao e bentornati a una nuova video recensione del canale Justin Apple. Io sono Justin e oggi vi voglio presentare un gioco tagliente. Ci sono momenti in cui c'è necessità di sfogarsi. Vuoi per colpa di una lunga giornata di lavoro, vuoi per una classe politica insufficiente, lo stress sale e va sfogato. Apple questa settimana allora ha deciso di regalarci Fruit Ninja. Credo che conosciate già Fruit Ninja, il più famoso gioco dell'Alfabric Studios, anche se parere personale non il più bello. Il nostro scopo sarà semplice, fare a fette il più alto numero di frutti possibili che ci verranno lanciati in aria, evitando frutti esplosivi e cercando di realizzare combo sempre più evolute, che ci assegneranno molti più punti. Avremo tre errori possibili, al terzo frutto mancato la nostra partita giungerà al termine. Con la notorietà Fruit Ninja ha allargato i suoi orizzonti, ora è infatti possibile giocare alle modalità Zen e Arcade, oltre ad un'interessante forma di online che sfrutta in modo encomiabile il Game Center. Lo scopo del gioco sarà identico allo standard, ma ci sarà anche un limite di tempo che renderà tutto estremamente frenetico e divertente. Insomma, un must da provare. E se mai non vi piacesse, potrete sempre far tagliare la frutta alla vostra amata nonna. Vi ricordo di iscrivervi infine al nostro canale su YouTube, così che possiate rimanere sempre aggiornati sui nostri nuovi video, di seguirci su Twitter, siamo JustinApplePod, di mettere mi piace alla pagina Facebook di JustinApple, vedete già abbiamo tantissime persone nella community e infine di seguirci in podcast. Usciamo settimanalmente con approfondimenti sul mondo Apple, siamo appunto JustinApple, ci trovate su iTunes, ma se volete potete anche andare su www.justintech per ascoltare tutti i podcast del nostro network che parlano anche di altri sistemi operativi, anche di tecnologia in generale, di videogiochi, insomma trovate tantissimi podcast. Vi ringrazio e alla prossima video recensione.